Ed eccoci nuovamente live, siamo pronti per questa seconda giornata di torneo 1v1 mid Abbiamo Tora contro Jan, torna con il traino E ovviamente si è rollato l'Arc Warden, quindi questi due giocatori adesso si vanno a giocare l'Arc Warden Vediamo Tora che sta giocando lato Radiant Ha iniziato con due scarpette, la Ward, le scarpette con le babucce dell'agilità Mango, tango, balsamo curativo e guardiano Invece vediamo Jan, ah Jan è andato direttamente per una benda spettrale E si è comprato una Ward che sta andando già a mettere a lungo la linea Non aspetta le grippe, cosa che invece sta facendo praticamente Tora Sta aspettando il treno di grippe prima di andare verso la linea Guarda molto profonda Realmente comunque una visione abbastanza ampia Come potete vedere Non avrà visione, diciamo, in questa parte della torre di Ant Jan Però comunque, diciamo, la parte anteriore avrà visibilità Ecco Tora, buono il suo creep blocking Leggermente in vantaggio Tora E iniziano contemporaneamente con gli spiritelli a castare Ovviamente questa è una gara di spettri E di copie Molto tattica, ma diciamo anche non troppo Andiamo a mettere, come sempre I colpi di grazia per vedere chi è in vantaggio Attualmente Tora sta conducendo Secondo livello per Jan Prende il danno dello spettro E buona negata quella di Jan Non male, non male Diciamo che siamo su un buon livello per entrambi di Denai La Steak conduce per il momento Tora Questa è la prima partita in cui non vediamo Vediamo che i giocatori comunque non hanno spammato l'acquisto di Pozzette Ce ne sono poche Quindi probabilmente andando più per l'acquisto di oggetti che gli permettano di fare danno Ecco l'aggressione di Tora Partono un paio di schiaffi Però nulla di troppo Già ne recupera un pochino il distacco Ecco gli nega La Pozza Tora si porta via il treno di grippe Usa un tango Già ne approfitta per farsi questo treno di grippe Bid in solitaria Può portare adesso pressione sulla torre avversionale Vediamo se Tora riesce a prolungare Di tanto Eh si perde una Una grippe ranged però Non Non subisce troppi danni Non fa troppe perdite così Tora Buon per lui che adesso Si trova quest'altro Ottima la negata di Gian Ne andiamo a vedere Tora adesso lui portare l'attacco Buono la dena di Tora Gian continua a far ripressione Ecco lo slow di Tora con la prima Gli arriva anche uno spiritello a Gian Non si sbilanciano troppo nessuno dei due Stanno giocando comunque entrambi molto bene Pensavo di vederli subito andare per il Malstorm Invece hanno preferito maxare Wretband A più non posso Diciamo che questi due giocatori si equivalgono C'è veramente veramente poco di differenza Nei last hit e nel deny La tattica È praticamente Quasi la stessa Ecco adesso la pressione di Tora Cerca di assestare qualche colpo all'avversario Ancora Bene così Gian che comunque Segue Veramente nel modo migliore il suo avversario Adesso c'è uno scambio di colpi Gian potrebbe farsi il first flood E infatti così E infatti è così Gian si prende questa prima kill E va 1-0 Ricordiamo si vince il match Nel caso in cui Si fanno due kill consecutive Oppure Si abbatte la torre dell'avversario Adesso di nuovo in pressione Gian Anche la sua copia Tora non può fare nient'altro che beccare Gian sfrutta la sua copietta Per portare colpi al suo avversario Intanto lui si cala una pozza Vediamo se continua ad andare in pressione Si mette uno spiritello Tora in difficoltà Deve fare tanto movimento Per scappare dall'aggressione Ci prova Tora a resistere E nulla di fatto Nulla di fatto per Tora E' veramente una bella partita Quella là Di Gian Che va per 1-0 Andiamo a rollare il secondo eroe 6 Quindi sicuramente è un agility No strength scusa 2-4-6 Bristol E si va con un Bristol back Come secondo match Si è arrabbiato Tora E siamo pronti Al secondo match Ciao fungon E manna Che ti devo mandare? Ciao fungon ah ciao a te ciao a te Fungon secondo match ragazzi siamo quindi al bristolback 1 a 0 conduce Gian per ora vedremo se Tora riesce a recuperare oppure verrà eliminato al primo turno ma praticamente hanno lo stesso set entrambi da quello che ho capito no? ah no solo la mascherina ok pensavo fosse lo stesso set per entrambi i giocatori vediamo se se Gian decide di andare a mettere nuovamente la ward no è andato di bacchetta scudo e anello Tora è andato di mango a manetta proprio cercherà sicuramente di spammare i spuntoni a più non posso a più non posso che era giocato da miracol eh Tora Tora è serio Tora è serio a me mi fa crepare delle risate è troppo simpatico e vediamo magician creep blocking vediamo i due giocatori sembrano alla pari no sempre live un vantaggio per Tora eh spuntoni si iniziano a far sentire c'è abbastanza spam Tora in leggero svantaggio proprio perché non ha nello scudo né l'anellino del basilius e ci rimette ci rimette troppo aggressivo magician ci crede troppo e va per il suicidio Tora adesso deve reccare la vita ce la fa riesce a recuperare la sua posizione recupera comunque magician e iniziano di nuovo spammare spuntoni entrambi terzo livello per Tora buona adesso per lui c'è un livello in più di spuntoni da poter spammare quindi fare più male all'avversario sì il doppio del danno adesso c'è Tora a sua disposizione hanno entrambi adesso il secondo livello vediamo se magician vuole andare in pressione nuovamente no non si fida non si fida questa volta magician Tora chi rischia va adesso in difficoltà entrambi attenzione magician poteva rimetterci le penne si sparano spuntoni addio è la vincetora troppo aggressivo ma sì serio bellissimo lo scambio i due i due giocatori eh lo so che lagga abbastanza sto aspettando questa benedettissima fibra ottica che ancora non arriva 96 allora 76 77 78 79 80 80 82 84 56 9 90 91 91 91 94 Lina dovrebbe essere Lina ah no a no non sei se non è il e il Natur Prophet ora che sventola sempre la sua bandiera del Team Civitas dall'altra parte abbiamo Magician Jan torna col traino e siamo tutti pronti per questo match di Furion il Natur Prophet e vediamo il giocatore piccare bello il set di i Furion con il mantellino della primavera di Tora terzo e ultimo match tra questi due giocatori Team Civitas è sempre in alto quindi si sono collegati i propri supporter del Team Civitas eh si il gioco ancora pensa sia un match tra il Bristol Back Magician si arrabbia di nuovo Tora bello anche il set comunque di immagini che c'ha questo Furion questo Natur Prophet con la con la Quinzo il pecorizzo pronto posizione come sempre Jan Laward zona mid mi pare che gli avesse mandato anche due grippe no Tora uno di noi veramente c'è il si è portato il pubblico si è portato il pubblico questo ragazzo non che non se lo meriti però è ottimo il creep blocking di Tora mettiamo come sempre i colpi e le negazioni ha piazzato una ward lungo il fiume Tora proprio zona centrale buon per lui sicuro Jan lo ha sgamato perché dovrebbe riuscire a vedere quella zona si sono bloccate a vicenda partono le crippe niente di pericoloso niente di pericoloso al momento leggero vantaggio per Jan e adesso lo blocca bene Tora vediamo se no purtroppo la tower continua a menare le crippe nulla di fatto bellissimi gli alberini di Natale i pini che incasta Jan Tora il leggero vantaggio leggero vantaggio di gold no scusate è Jan il leggero vantaggio di gold adesso l'attacco è di Tora Jan adesso replica gli mette anche le crippe addosso uno spam continuo di crippe da una parte dall'altra Tora ha preferito comprare il la pietra provo a abbassare un po' il dan l'armor dell'avversario mentre Jan è andato direttamente per un talismano in difficoltà nuovamente Tora deve andare dietro la linea della torre sta facendo un'ottima pressione Jan leggero vantaggio per Tora adesso con il astit ancora molto bene Tora questo buon denaro per per Jan che si può riportare in vantaggio se l'astit no non riesce a lastitare bene queste crippe ne riesce a recuperare solo una scambio di schiaffi tra i due opponenti arrivava anche l'orbo del veleno a Tora un po' di provocation buono i colpi di Jan che a questo punto si riporta in vantaggio ancora non si è fatto portare sta andando per un tamburo Jan un po' di sostegno e di velocità di attacco adesso Tora cerca di attaccare ci sono anche le grippe di Jan che attaccano a loro volta Tora c'è un bel colpetto di grippe adesso mid Jan sembra abbastanza in possesso della mid lane Tora infatti è costretto a beccare vediamo se Jan non ne approfitta no non ne approfitta preferisce no non ha il cooldown per cassare le grippe Tora ne approfitta per riprendere un po' di gold rimettersi in pari con il suo avversario anzi lo riesce a superare quasi al sesto livello Tora Jan fa lo stesso si mette lì sotto Tora in attesa delle grippe e prende il livello 6 Tora gli manca abbastanza poco cassa l'ultima Jan bloccato Tora lì in mezzo riesce a scappare dal blocco ultima ultima di Tora non si impensirisce però Jan rimane lì a questo punto non fortificano nessuno niente di fatto pensavo volesse fortificare Tora per sfruttare il blocco ma invece fa andare via il suo avversario che si cala una pozza si autobloccato Tora allora per iscrivervi ai prossimi tornei ragazzi dovete iscrivervi sulla pagina di Nino Dota Ducast su facebook che mettiamo gli annunci su ASD Dota 2 Italia che è l'associazione che promuove il torneo e oppure iscrivetevi su Dota Dota Italia il gruppo da 1619 membri non quello da 3400 che lo gestiamo sempre noi e questi sono i tre canali principali su cui condividiamo i tornei quindi se siete lì sicuramente sarete avvisati adesso Tora cerca di bloccare il suo avversario con le creeper neutrali purtroppo non ce la fa vediamo se va in pressione sulla torre si pensa a tirare giù la torre no no fortificazione attirata la Tora è costretta a beccare faceboots per Gian e Tora deve fortificare Gian sta andando direttamente per la torre già ha consumato abbastanza a sufficienza la torre di Tora quando c'è stata la push e adesso è in difficoltà Tora è in difficoltà è in difficoltà è rimasta veramente poca poche HP alla sua torre si deve inventare qualcosa perché nel caso contrario Gian con una push fatta bene potrebbe rubargli la torre da sotto il naso si cala anche una pozza e invatti va per il Rat Doto best Doto Rat Doto attenzione attenzione la stilata velenosissima di Gian che ne approfitta in modo guatto guatto felino e anche abbastanza russo stila questa torre e quindi si porta a casa la vittoria del primo match della giornata e quindi finisce per oggi la giornata dedicata allo stream vi ricordo di iscrivervi sui nostri canali su ASD Dota2 Italia sul gruppo di Dota2 Italia il gruppo da 1619 persone perché l'altro non lo gestiamo noi quindi il numero di utenti intorno ai 1600 e sul canale Twitch Youtube Facebook Instagram di Neodota2cast lì se volete rimanere sempre aggiornati sui tornei su quello che ci sta riuscirete a essere sempre informati prossimo prossimo girone sempre settimana prossima nel weekend faremo gli altri 4 match il sabato e la domenica invece ci sarà la finalissima ringrazio a tutti per esservi collegati restate sui nostri canali mi raccomando iscrivetevi lasciate i like e tutto quanto e diciamo fine novembre ci sarà il prossimo 1v1 mid per gennaio invece inizieremo il 5v5 un torneo che speriamo abbia abbastanza iscritti poi faremo i giorni delle finali in un luogo in una location che sia comoda più o meno per tutti e grazie grazie ancora passate una buona domenica ci vediamo settimana prossima